Non giocate al suo penalotto italiani, non giocate, tenetevi soldi, fate una bella, scappagnate con una d'oro, un uomo, un trans, quello che volete, ma non giocate il suo penalotto. Blitz di Gabriele Paolini, il disturbatore TV davanti alla sede dei monopoli di Stato in via della luce a Trastevere dopo aver insediato a lungo le truppe della Rai per evitare le sue sortite alle spalle della giornalista incaricata di seguire l'estrazione della sestina vincente in Bermudet Short Paolini si è presentato questo pomeriggio alle 14 all'angolo con Piazza Mastai con un amico fotografo e ha dato inizio al suo show. Oggi ti sorpederò ancora una volta a mio padre generale che in tono gasmiano mi dirà perché non hai giocato i numeri che ti ho dato? Sotto gli occhi degli agenti di una volante Paolini ha poi ingoiato una banconota da 5 euro. Io preferisco mangiarmi 5 euro piuttosto che darle poi a chi?